Cosa spinge una collettività a riscoprirsi comunità, a riunirsi per darsi degli orizzonti e ritrovare il coraggio delle decisioni? Quanta forza può venire fuori dall'approfondimento comune sulle possibilità di cambiamento e sulle possibili soluzioni alle esigenze di ognuno? Quanto può la forza della conoscenza tradursi in strumento per creare il futuro di tutti? Come si può essere così pigri, tanto da rinunciare al valore delle istituzioni come luogo nobile e privilegiato della convivenza civile?